La prima prova è andata, ma non finisce qui. Domani un'altra forse più impegnativa. Gli studenti maturandi stanno vivendo queste ore con stress, ansia e grandi ripassi. E allora come affrontare questo periodo di forte impegno? Quali consigli alimentari possiamo dare a questi ragazzi? Le scorte di tè e caffè non bastano a superare le nottate. Bisogna seguire un regime dietetico attento a non infiammare troppo l'organismo, già purtroppo penalizzato da tutte queste tensioni. Allora cosa possiamo consigliare? Cosa deve prevedere la dieta del maturando? La cosa più importante è quella di non saltare la prima colazione. Gli studi scientifici dicono che i ragazzi che non saltano la prima colazione hanno una miglior resa scolastica e anche nello studio. Quindi la prima colazione deve essere fatta come la classica colazione italiana con ciambellone o fetta di crostato e dei biscotti, il latte o un derivato che può essere lo yogurt e la frutta che non deve mancare mai. Questo perché? Perché i carboidrati sono la base del nutrimento del cervello. Quindi i neuroni devono lavorare con la benzina nel serbatoio e questa benzina sono i carboidrati. Non dimentichiamo anche la quota proteica. Però bisogna rispettare i tempi, quindi c'è il tempo per mangiare e il tempo per studiare. Purtroppo gli studenti presi un po' dall'affanno, dalla paura, dall'emozione, fanno tutti insieme e studiano mangiando. Quello altera sia la capacità di digestione che la capacità di apprendimento. Quindi impariamo a separare i giusti tempi.